Aule fredde, termosifoniche non funzionano e condizioni disagiate dove è impossibile fare lezione. Centinaia di studenti salernitani hanno organizzato oggi una mobilitazione per protestare contro le difficili condizioni visto il grande freddo di questi giorni. Temperature vicine allo zero e impianti insufficienti a garantire la necessaria vivibilità. Dal virtuoso a Regina Margherita, dal Daproci, dal Genovesi, dal Focaccia al De Sanctis, passando per il Tasso. Sette istituti superiori di Salerno e centinaia di studenti questa mattina hanno organizzato slogan e striscioni che qualcuno ha ribattizzato lo sciopero delle coperte. Del resto, in tanti in classe hanno seguito le lezioni con i giubbotti. Qualcuno si è portato da casa persino delle coperte per affrontare il freddo di queste ore. A protestare sono stati i ragazzi degli istituti superiori, ma i disagi riguardano tante scuole della città di ogni ordine e grado. Infatti, tantissimi ragazzi e ragazze hanno disertato le lezioni con i genitori che hanno preferito non mandare i figli a scuola. Ieri, a far sentire la propria voce, sono stati gli alunni del virtuoso dove il problema è di carattere strutturale dal momento che mancano del tutto i termosifoni. Chiesto l'intervento della provincia, la quale però non ha risorse e ha margini di manovra molto ristretti. Insomma, un cane che si morde la coda tra interventi necessari da mettere in atto e soldi che non ci sono. Nel mezzo, alunni e docenti salernitani che devono fare i conti con non pochi disagi.